Ovviamente è quello che avete fatto. Avete aperto il video. Se io avessi nominato questo video diversamente, meno persone lo avrebbero visto di sicuro. Però il divieto attrae, perché ti chiedi cosa ci può essere di segreto un nascosto che ti impedisce di vedere il video. Così vale per i vari divieti nei luoghi pubblici. Divieto di accesso. Quasi quasi ci vuoi andare, proprio per quello che ho appena detto. Poi magari c'è scritto riservato al personale. E allora sai il perché e la curiosità cala. Perché quando si ha il motivo le regole si rispettano più volentieri. Benché in alcuni contesti non occorre la motivazione, si trova ugualmente. Infatti in Italia non leggo vietato spoggersi. Leggo pericolo di caduta. Avete capito bene? In Italia, sì. All'estero no. Infatti nei cartelli stranieri, nella traduzione italiana, aggiungono la motivazione. Quindi è una cosa proprio totalmente nostra. E non è un vanto. Ciao a tutti, alla prossima. E saluto Luca Dex e Monica Cantini che hanno commentato il video annuncio. Grazie. 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 Grazie.